La battipagliese cala subito il Tris. Nella gara d'andata del primo turno di Coppa Italia, infatti le zebrette hanno battuto il Solofra per tre reti ad uno dinanzi al pubblico amico del Pastena. Mattatore dell'incontro è stato David Munard, autore di una doppietta, entrambi di pregevole fattura. Il Tris viene calato nel finale da Annese su assist di Di Giacomo. Buona la prova di tutto l'organico a disposizione di Fusco, anche del bomber Piccirillo, vicino al gol. Nel mezzo, sul finire di primo tempo, la rete del momentaneo 2-1 del Solofra ad opera di De Rosa su uno svarione difensivo. Positiva la risposta del pubblico con circa 500 spettatori. In giornata, grande attesa per la composizione dei campionati di eccellenza.